E oggi non possiamo che parlare di elezioni, però vi do un grafico. Guardate questo. Questo è il grafico dei giovani sotto i 30 anni che hanno votato PD, 5 Stelle e AVS. È una buona cosa? Ci conforta? Beh, è importante perché senza i giovani, senza gli astenuti non si va da nessuna parte. Chiaro? Ieri alle europee ha votato il 49% degli italiani, quindi il 51% non ha votato. Si tratta di 25 milioni di persone. 25 milioni di italiani non sono andati a votare. E considerate che se parliamo di europee, le europee sono state un po' trascinate, cioè i posti dove si è votato di più, quali sono stati, dove c'erano le regionali o le comunali di 3.500 comuni. Se non ci fossero state lo stesso giorno la regionale e le comunali saremmo forse al 40% dei voti. Quindi col 60% degli astenuti. Perché il botto, la salita, l'hanno fatta le votazioni dove c'erano in contemporanea le comunali. In molti comuni, a cominciare da Bari, da Pescara, da Firenze, tanti comuniani hanno votato. Ma io vi facevo vedere questo. Guardate, questo è il grafico che fa vedere il voto degli under 30. Hanno votato PD, 5 Stelle e AWS. Che significa? Significa che i giovani hanno votato progressista, ma la percentuale di giovani alle urne è bassa. Questo è il problema. Cioè i giovani hanno votato meno che gli altri, ma quando vanno a votare i giovani che votano sono quelli progressisti ed è una differenza italiana perché in Germania i giovani votano a estrema destra, in Francia i giovani stanno votando a destra. Quindi in Italia i giovani che votano stanno votando in chiave progressista. Perché io ho commentato ci servono i giovani e ci servono gli astenuti? Ma perché è evidente che se vogliamo riprendere in Europa una forza progressista, ecologista, innovativa, nuova però, non quelle vecchie. Guardate che il dratto in Europa è inquietante, i verdi sono crollati, hanno perso il 15% dei voti. In Germania i verdi stanno all'11%, erano un partito che stava oltre il 20%. In Italia facciamo eccezione perché devo dare atto che con la candidatura della Salis, con una serie di cose, da noi AVS, che mette insieme la sinistra e i verdi, quindi considerate che presi singolarmente hanno preso il 3-2, il 3-2. Questa è la realtà italiana. Quindi non è che dobbiamo essere contentissimi che siamo diventati un paese molto ecologista. Però va detto che AVS almeno ha superato il 6%, ha avuto un bel risultato. I 5 Stelle purtroppo, ancora una volta, le europee crollano rispetto alle politiche. Gli è successo nelle elezioni del 2014, l'anno prima nel 2013 avevano preso il 25%, l'anno dopo sono crollati di 4-5 punti. L'hanno rifatto tra il 2018 e il 2019 in modo ancora più massiccio. Nel 2018 i 5 Stelle hanno preso il che, innanzitutto, invece di parlare a Bambera, che è lo sport italiano preferito, dobbiamo capire. Quindi il PD è andato bene, ha recuperato a sinistra, ma va anche detto che rispetto alle elezioni dell'anno scorso sono andate a votare molte meno persone. Ma le molte meno persone in gran parte sono astenuti che hanno penalizzato fortissimo il Movimento 5 Stelle, che deve interrogarsi su una riorganizzazione vera. Peraltro, non si può andare a una competizione dove da una parte viene candidata la Meloni in tutta Italia, dove dall'altra parte viene candidata la Sline o persone importanti come il sindaco di Bari De Caro che ha preso da solo 500.000 voti. 500.000 voti. Quindi ha preso quanto? Il 2-3%, solo lui praticamente, è un 1-2%. Allora, il PD è andato bene, ovviamente. Bene. La Meloni è andata benissimo? No. È andata bene, ha preso il 28%. Ma ricordatevi che alle scorse elezioni, quando la Lega ha fatto il botto, ha preso il 34%. E ancora prima Renzi, in epoche ormai dieci anni fa è considerato preistoria, in questo clima che tutto cambia, Renzi ha preso il 40% da Presidente del Consiglio in carico. Mi chiedono se ci può essere premi per la leadership di Conte. Non lo so, perché io, come sapete, sono un sostenitore acceso, un alleato. Penso che Conte, io avevo consigliato Conte di candidarsi capolista in tutta Italia, anche se lui, essendo persona rigorosa, diceva ma io non mi voglio candidare sapendo che poi non vado. È vero. Però se vai a una competizione in cui gli altri giocano con i cavalli e tu stai a piedi, è evidente che la competizione non è facile. Se Conte fosse stato capolista in tutta Italia, i 5 Stelle avrebbero reso 2-3 punti in più di percentuale, io credo. Io l'ho detto sempre, anche pubblicamente, che ritenevo che Conte si dovesse candidare capolista in tutta Italia perché il voto negli ultimi tempi è molto più legato alla figura di Conte e come è stato costruito che non è 5 Stelle. Questa è la realtà. Poi non so, sarà un dibattito interno agli iscritti dei 5 Stelle, militanti, per capire come dovranno riorganizzarsi. Lo stesso Conte ha annunciato che dovranno fare una riflessione. È indiscutibile. Io sono più preoccupato ancora del fatto che alle amministrative, nelle realtà locali, 5 Stelle hanno dei numeri che sono ridicoli per una forza importante. A Firenze sono andati male, nonostante che il candidato è un bravo tipo. Io l'ho conosciuto per poco, ma mi è sembrato che era molto volenteroso. Ora non so come andrà nei altri posti, però è andato male dappertutto alle amministrative. Quindi bisogna riorganizzarsi e rilanciarsi come grande soggetto innovatore, capace di prendere i voti dei giovani e degli astenuti, giocando le iniziative. Mi fa piacere Antonietta ho risposto per quello che so io, ovviamente. Nicola dice che bisogna organizzarsi. Sì, ma organizzarsi non significa fare delle riunioni di 4-5 persone. Organizzarsi significa strutturarsi ed essere capaci di rilanciarsi con forza. E forse, devo dire la verità, anche superare questo totem dei due mandati, perché alcune persone note, penso ad Alfonso Bonafede, ottimo ministro della giustizia, sarebbe stato un ottimo candidato alle elezioni europee. Non è che perché ha avuto due mandati di parlamentare non si può più candidare. Perché sennò sprechiamo una serie di persone, faccio il nome di uno che è fuori dai giochi, è amico di Conte da sempre, ma è stimato dagli altri, per evitare di mettermi nelle polemiche interne che manco conosco, però che ovviamente ogni tanto finisco per ascoltare. I cittadini si fidano delle bufele che dicono in tv? Certo, si fidano anche delle bufele che dicono in tv, però soprattutto non vanno a votare. Vanno stimolati con iniziative forti, nuove. Io ho detto più volte che serve un nuovo gruppo parlamentare europeo, di nuovo, quando io dico innovatori ecodigita, dico un nome ma possono essere altri nomi, ma i partiti europei hanno fatto il loro tempo, guardate che i popolari e i socialisti hanno tenuto, in Europa stiamo parlando, io volevo farvi vedere la grafica del Parlamento europeo, ma non è che ne capirete molto. Il dato è questo, socialisti e popolari sono i partiti più forti, socialisti sono progressisti, i popolari più conservatori, ormai sono diventati quasi centristi i popolari perché sono cresciute delle destre estreme, arroganti, strafottenti, pericolose che rendono i popolari quasi un presidio democratico rispetto al disastro. Molti giovani sono fuori che non hanno votato, è vero, ma i fuorisede questa volta per la prima volta votato, hanno votato 7 mila persone, quindi non sono un dato statisticamente rilevante. E invece rilevante è lo studio fatto, che l'ho fatto vedere all'inizio, questo, sul voto degli under 30, cioè i giovani, chiamiamoli fino a 30 anni, che hanno votato PD, 5 Stelle e AVS. Quindi significa che c'è una parte di giovani che sono molto orientati verso l'area progressista ecologista. Siamo capaci di incercertarli o no? Conte non si tocca, Francesca eccetera. Sì, io immagino che, vi ripeto, io ho detto che secondo me Conte si è un errore affatto e che doveva candidarsi, perché poteva prendere, come ha preso De Caro 500 mila voti, ha preso quegli altri, che sono voti anche proprio di persone che sono persone conosciute. La gente vuole vedere il leader. Capisco il rigore della posizione, ma se poi il rigore della posizione, gli stessi elettori, pure dei 5 Stelle, non lo capiscono, ma lo capiscono solo alcuni militanti, allora bisogna combattere la battaglia contro la Meloni mettendosi direttamente in campo. Ormai però è inutile parlare di quello che poteva essere. Dobbiamo dire che comunque col 10% resta una forza importante nel nostro paese e che i parlamentari eletti sono persone di grande qualità. Io ne ho conosciuti tanti, potrebbe che il 5 Stelle deve diventare di nuovo più rivoluzionario, non lo so. Chi ama molto Conte, sa che Conte è rivoluzionario nelle affermazioni, ma è una persona tranquilla nel modo che lo dice. Lui stesso dice che vuole fare una rivoluzione gentile. Quindi è un dibattito interessante, ma quello che è importante è uno capire che ogni elezione ha una sua storia. E poi io colgo la questione per fare i complimenti. Fare i complimenti a quelli che sono stati eletti nei 5 Stelle in particolare, perché io ci sono stato molto vicino. Faccio i complimenti, inizio dal Nord-Ovest, faccio i complimenti all'amico Pedulla, direttore della notizia, bravissima persona di qualità, che nel Nord-Ovest è riuscito a diventare il più eletto di tutto il Nord-Ovest nei 5 Stelle. E devo dire, essendo una candidatura che è nata un mese fa, un mese e mezzo fa, devo dire che ha fatto veramente un grande risultato, segno di una grande simpatia. Faccio i complimenti anche a Sean Sacco, che è un ragazzo molto bravo che ho conosciuto del Piemonte, che ha fatto una bella campagna elettorale da ragazzo pulito e per bene, consigliere regionale uscente, anche se non ce l'ha fatta, ma guardate che chi ce la fa, ce la fa anche grazie ai voti che hanno presi quelli che non ce l'hanno fatta. Quindi bisogna essere sempre grati e riconoscenti anche ai non eletti e non avere la tracotanza di chi è eletto che se ne frega degli altri. È sbagliatissimo. Nella vita mia sono stato eletto da quando avevo 15 anni al Consiglio di Istituto. Un sacco di volte ho sempre ringraziato quelli non eletti perché il contributo di tutti è fondamentale per una campagna elettorale. Non bisogna mai dimenticarselo questo, mai. E poi nel nord-est la bravissima Sabina Pignedoli, veramente brava, capace, una deputata uscente che è stata rieletta con forza. Devo dire complimenti anche Bigeri che ha fatto un ottimo risultato, purtroppo non ce l'ha fatta perché lì non sono scattati due seggi, ma il fondatore di Banca Etica è stato un candidato di grande qualità. E nel centro Italia la Morace, la capolista, una calciatrice, ma soprattutto una donna che si è occupata dei temi dei diritti civili, dell'innovazione, brava, e i due che per ora non si sa chi dei due sarà eletto, ma sono tutte e due persone bravi perché sono vicini i voti, sia Gianluca Ferrara che Dario Tamburrano, persone di grande qualità che si sono sempre occupate seriamente dei grandi temi ambientali. E va detto con grandissima onestà. E poi nelle isole Antoci, che è una persona splendida, l'ex sindaco di Bagheria che non è stato eletto ma ha fatto un grande risultato, e infine il Sud. Io ho avuto il piacere di essere alla serata conclusiva della campagna elettorale del Sud e di incontrare tanti amici, da Sergio Costa a Roberto Fico, passando per i tanti deputati, consiglieri, persone che a Napoli e in Campania, ma in tutto il Sud, lavorano con grande tenacia. E devo dire, ho rivisto proprio venerdì, Pasquale Tridico, e gli faccio i complimenti perché ha preso 100 mila voti, perché è una persona di grande qualità umana, ed è un calabrese che veramente ha fatto stata da solo, una persona che è nata in un piccolo comune della Calabria, con una vicenda familiare molto complicata e che è riuscito a diventare tenacemente un professore ordinario, ed è una scelta bella fatta da Conte, quella di candidare. Ha avuto anche più tempo degli altri perché è stato il primo candidato annunciato, ma ha fatto un grande lavoro. E poi gli eletti, Valentina Palmisano, presidente del Consiglio di Ostuni, ha preso oltre 40 mila voti, donna tenace. Io ho fatto un evento a Lecce qualche giorno fa con lei per sostenere la campagna elettorale degli amici pugliesi, ed è stata eletta a lei ed è stato rieletto Mario Furore, un bravissimo deputato europeo, giovane, era credo uno dei più giovani deputati europei eletti, che è stato rieletto ed è stato confermato. Complimenti a tutte e due, complimenti, complimenti, complimenti. A Cosenza del Movimento 5 Stelle del primo partito non lo so, Lilli, ma se è così, complimenti ai militanti, agli attivisti del Movimento lì. Ma poi, come vi dicevo, vanno ringraziati anche quelli che non sono stati eletti, ma hanno contribuito, hanno fatto un grande lavoro. Penso a Danilo della Valle, che ha avuto un grosso risultato con quasi 30 mila voti, ma penso al prolettore di Salerno, Maurizio Sibilio, persona di grande qualità, candidato di Conte, che in un mesetto è riuscito anche lui ad avere un bel risultato, e Maura Sarro, che vi ho raccontato, una bravissima impenditrice di Avellino, che pure ha preso tanti voti in una competizione difficile, complicata, in zone dove ci sono tanti candidati forti, anche delle altre formazioni politiche, ecco perché è anche il risultato dei Cinque Stelle al Sud, che pure è stato importante perché è il terzo partito, un partito forte, radicato, ma è il risultato che al Sud, dove ci sono le preferenze e dove si usano tanto le preferenze e gli altri hanno candidato tutte le persone con un grande bacino elettorale, avere i voti è ancora più difficile. Quindi bravi, bravi a tutti. Poi ho avuto occasione di incontrare un candidato della Basilicata, che mi ha fatto una bellissima impressione, di sentire l'assessore di Chieti, pure candidato, che pure si è impegnato, quindi io cito quelli che adesso non voglio non citare gli altri, ecco nel Lazio anche la Giuse Esposito, brava ragazza che ho visto molto impegnata, c'era Pacetti, candidato, una persona che ho conosciuto già quando collaborava con la Raggi, quindi adesso cito solo alcuni nomi, non riesco a ricordarli tutti. Quindi auguri, auguri agli eletti e un grande tenete duro ai non eletti, perché la nostra candidata palmisana è arrivata comunque all'europea, Alessandro Martucci. Sì Alessandro, ma io l'ho detto più volte, bravissima, abbiamo lanciato con lei a Lecce l'obiettivo di fare un gruppo nuovo al Parlamento europeo che si chiami Eco Digital Innovators for Peace and Progress. E perché lo dico? Perché i 5 Stelle sono nel gruppo dei non iscritti. Al Parlamento europeo i 5 Stelle sono nel gruppo dei non iscritti. Questo è il quadro del Parlamento europeo. Eccolo qua. Cosa è accaduto? È accaduto che i popolari e i socialisti, stavo dicendo prima, hanno tenuto. Sono crollati i verdi e i liberali. Ora, che i verdi crollino quando c'è l'emergenza cambiamento climatico significa che in Europa i verdi non hanno colto qual è il cambiamento in atto. Questo è il dato. Che i verdi tedeschi che stavano oltre il 20% stanno all'11% è un dramma. È un dramma. Non per i verdi tedeschi. È un dramma per le battaglie sul Green Deal. Perché questa è la verità. E in Italia è il 3-3 dei verdi italiani, il 3-3 della sinistra, che sommati fanno per fortuna un 6-6 e quindi sono stati bravi a continuare l'esperimento, ad andare insieme. Perché in questo caso, diversamente da altri casi, l'insieme ha funzionato. Anzi, hanno preso più voti insieme di quanto ne prendono singolarmente. Perché spesso i verdi italiani, poi hanno preso il 2,5, il 3, insomma erano cifre. E quindi ritornano dopo, credo, 20 anni nel Parlamento europeo i verdi, dall'Italia. Poi non so chi sarà eletto. Ho visto il grande risultato di una giovane brava in Lombardia, a Scudieri. Ho visto il grande risultato di una persona che io conosco da tanto, perché è stato per anni uno dei miei collaboratori più fidati, che è Francesco Borrelli, che pure ha preso un grandissimo risultato, quasi 50.000 preferenze nel sud. Anche là è una cosa difficile, perché poi è un voto che lui prende non di clientela, ma di scontro contro i marioli, fetenti, delinquenti e camorristi. Quindi bravo, bravo Francesco. E anche, non posso non fare i complimenti, è un altro mio amico, a cui chi votava PD. Ho detto, votate Alessandro Zan, perché una persona valida ha fatto la battaglia sui diritti LGBT, o QR, adesso ci sono milioni di sigle, è stato eletto sia nel nord-ovest che nel nord-est. Quindi, complimenti anche a De Caro, un grande risultato di un sindaco per bene, che la destra ha cercato di travolgere in una vicenda grave, ma che non riguardava lui, ovviamente, ma riguardava altre persone. Quindi, credo di aver dato una carrellata abbastanza lunga, poi, ma se ne sarò dimenticato qualcuno che avrà fatto anche dei bei risultati, qualcuno che conosco, e quindi mi scuso se dimentico qualcuno. Però, sicco qualcuna o qualcuno. Io faccio gli auguri veramente di cuore a tutti gli eletti. Faccio gli auguri a Conte, perché gli auguri vanno fatti non quando si stravince, ma quando ci sono dei problemi e si rischia di aprire una polemica che non serve, perché bisogna guardare oltre, bisogna capire come si può rinnovare, rilanciare ancora meglio non solo il Movimento 5 Stelle, ma quello che può servire a partire dall'esperienza del Movimento 5 Stelle, perché serve una grande alleanza nuova. Anche perché poi, mentre uno si guarda all'orticello proprio, le destre hanno, nonostante il crollo della Lega, la Lega passa dal 34% al 9%, 34% delle scorse elezioni europee passano al 4%, scusa, al 9%, era mio, qualevo il 4%, è arrivato al 9%. Ed è stata superata Forza Italia, altra cosa strana, Forza Italia che è riuscita a prendere un risultato, non solo dovuto al radicamento, come vogliamo definire, ma dovuto al fatto che di fronte alla Meloni che usava frasi strane e a Salvini, che è pazzo e candida un generale che sicuramente ha preso molti voti, ma che 500.000 persone estremiste possano votare uno così è ok, ma ha capito la Lega che questo gli ha portato al fatto che gli altri l'hanno schifata? Cioè dove mettere uno che prende voti in un gruppetto di fanatici, ma poi ti sputtane il partito, ma se perfino Bossi non ce l'ha affatto a votare la Lega che si è ridotta a un gruppo di estrema destra scombinata. Ma vi rendete conto che di sasso ha fatto Salvini a quel partito? Per fare prendere i voti a un generale che parla di cose assolutamente surreale, ben hanno fatto i giornali che hanno evidenziato come i giovani italiani che hanno vinto la gara d'atletica siano stati il migliore schiaffo a questi personaggi che ancora discutono sul colore della pelle, ma dove vivono questi personaggi? Ma in quale caverna stanno? E poi la bocciatura palese di Sgarbi che perfino nell'elettorato di Fratelli d'Italia non ce l'hanno fatta a votare Sgarbi. Allora quindi c'è anche nella pazzia del popolo c'è forse ogni tanto un po' di buonsenso, anche in elettorati che sono molto distanti da me. Bene, io vi saluto, spero al più presto di poter farvi vedere anche qualcuno dei nostri neoeletti eco-digital e quindi lavoreremo perché in ogni caso l'area complessivamente progressista ha tenuto in Italia rispetto a altri paesi. Pensate alla Francia, Macron è stato annientato, si è messo a fare il guerrafondaio scatenato pensando che recuperava voti ed è stato schiantato dalla Le Pen e quasi sorpassato anche dai socialisti. Cioè il partito del Presidenze è franato alle urne e ha fatto franare il gruppo liberale europeo, questo è il dato. Da noi certo nessuno è contento del fatto che le destre abbiano confermato tra il 28-29 della Meloni, il 9-9 degli altri due hanno confermato una tenuta obiettivamente, ma non hanno sfondato in modo drammatico e quello che vi ho fatto vedere e vi rifaccio vedere alla fine della diretta è questo. Il voto dei giovani dovremmo avere una speranza, i giovani under 30 hanno votato PD, hanno votato 5 Stelle, hanno votato AWS, quindi hanno votato nell'area progressista e ecologista. Speriamo perché i giovani per natura dureranno di più, anche se io mi auguro che gli italiani siano sempre un paese molto longevo dove vanno a votare anche i centenari, perfetto, ma investiamo sui giovani perché dobbiamo pensare anche al futuro e i giovani si temono che il futuro col cambiamento climatico sia problematico e quindi viva Dio devono porsi il tema di avere in futuro un lavoro, di avere in futuro la possibilità di una terra vivibile per loro e per i loro figli e le future generazioni. E io domani partirò di nuovo per la Puglia perché dopo domani mi occuperò in un convegno organizzato da una realtà che si occupa di intelligenza artificiale, di come supportare quel G7 che si apre in Puglia sui temi dell'intelligenza artificiale e poi vi aggiornerò e vi farò sapere. In ogni caso continuiamo con forza e con energia e lavoriamo con molta determinazione perché la speranza, come ci dice, è dei giovani ma la speranza è anche in tutti quelli che si impegnano con volontà, con buona volontà che non si vanno prendere né dall'esaltazione quando si vince né dalla disperazione quando si va meno bene. Bisogna essere netti, capire, lavorare, impegnarsi perché chi si impegna poi gli obiettivi li raggiunge magari non nel momento in cui lo pensa che ci arriva più facilmente. Buona serata a tutti e ci vediamo presto. Ciao.